Fattura cartacea, addio, a partire dal 1 gennaio 2019 si passerà a quella elettronica, quindi emissione, trasmissione, conservazione di tutte le transazioni commerciali tra imprese avverranno per via digitale. La notizia è nota, ma forse non ha la diffusione che meriterebbe dal momento che questo passaggio avrà un impatto pesante su tutte le imprese, grandi e piccole, anche se rischino di essere quest'ultime, a pagarne gli effetti più consistenti. Una novità che potrebbe incidere in modo forte sulla gestione amministrativa delle aziende, basti pensare che ad oggi soltanto un 5% ne fa uso, ma la fatturazione elettronica è ormai un diktat, è soltanto questione di mesi. E se la data che segna l'inizio di questo nuovo percorso per tutti i contribuenti è prevista per l'inizio dell'anno prossimo, nel 1 luglio di quest'anno si parte già con le concessioni di carburante e di subappalti della pubblica amministrazione. Sostanzialmente le imprese emetteranno le fatture trasmettendo questo file elettronico a una piattaforma informatica gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questa piattaforma informatica, denominata SDI, sistema di interscambio, non farà altro che ricevere questi file contenenti le fatture elettroniche dall'emittente e consegnarlo al destinatario. È del tutto evidente che questo nuovo adempimento comporterà un impatto importante sui sistemi informatici delle aziende che dovranno adeguarsi ed essere in grado di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico. Questa tipologia di fatturazione interessa anche le aziende che lavorano con i privati. Lo scopo che si vuole perseguire è doppio, se da una parte l'obiettivo è semplificare e dall'altra si cerca anche di contrastare l'evasione fiscale. E su questo tutti d'accordo, ma come richiesto da CNA, sarebbe stato logico pensare ad un periodo di sperimentazione per testare l'intero sistema. Qui è importante poter procedere con una proroga o comunque con una sperimentazione. Il CNA darà tutte le informazioni del caso. Soprattutto siamo in grado di assistere le imprese sia nella redazione della fattura, quindi presso l'azienda, piuttosto che presso i nostri uffici, e supportare tecnologicamente l'impresa che intende procedere con la fatturazione elettronica. Per le imprese quest'anno già l'introduzione del GDPR, il nuovo regolamento europeo in materia di privacy e di dati personali, ha rappresentato un adempimento impattante da gestire. La fatturazione elettronica sarebbe il secondo subito a seguire. Chiaramente introdurre un altro proprio a metà dell'anno sicuramente non favorisce una relazione tranquilla fra le imprese e lo Stato.